un gioco un gioco, si perché la mamma magari no la mamma ha comprato due ma non lo so qual era per te ok ma io direi che c'è un bel gioco lasciamo e poi la seconda cosa se tu ti guardi intorno in personale c'è una cosa ancora ma tu non lo vedi ancora come fai a non vedere una cosa così aspetta aspetta che cosa c'è? come fai a non vedere una cosa? devi appizzare la luce perché sei una sega ma che cosa c'è? ma che cosa c'è? scendi la luce ma che cosa c'è? vai a sinistra cosa c'è? nicolas è Romeo guarda Romeo questa è la parte mia del nici si 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 la tengo cos'è? cos'è questo? cos'è? c'è la benzina c'è 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 fantastico c'è c'è la betoniera la russa la dium aspetta questa è la tua c'è olio ma che olio? non c'è olio è olio per te non c'è non c'è portiamola fuori così la può è troppo stricolata no no è giusta ah è giusta è giusta si prende sgasa in penne e si le va è questo è proprio quello a competizione adesso prendo il golf un po' se vuole questo qui è il golf un attimo questo è il 50 è il 50 però questo ha 8 cv cambia dai dai 4 e mezzo ok? io capisco adesso portiamola fuori un momento vengono accendere è un meraviglio ovvio a me incruci con l'interazione ma ma qua 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 qua